L'ammari FC Lucca è soprattutto una partita storica perché quando mai ricapiterà che le due società si possano affrontare in una gara ufficiale, la gente rossonera almeno se lo augura. Vorrebbe dire che il progetto rossonero, avviato dalla nuova dirigenza, prenderà davvero il volo, riuscendo a riportare la città nel calcio che conta. E se mai dispiace che il match non si possa giocare al Porta Elisa, sarebbe stata una festa per tutti. Intanto però si deve fare i conti con l'eccellenza, un'avventura che tutti sembrano aver preso con lo spirito giusto e se ne ha avuta, conferma giovedì sera, la cena organizzata alla trattoria Gigi di Michele Tambellini. A tavola i due allenatori, Stefano Fracassi e Giacomo Lazzini, insieme a dirigenti e giornalisti, per provare a riderci un po' su e a crescere l'interesse sulla sfida del Necchi Balloni. Obiettivo raggiunto. L'FC Lucca si avvicina al match con il consueto entusiasmo. Lazzini dovrebbe avere tutti a disposizione, compreso Costantin, che è ormai sulla strada del pieno recupero. Intanto, martedì prossimo, il Tribunale esaminerà l'istanza di fallimento presentata contro la lucchese Libertas 1905 dalla commercialista Marco Paolinelli. Se venisse accettata, si aprirebbe un nuovo capitolo e probabilmente di carattere penale sulle vicende della società che fu di Valentini e Giuliani. Scenari simili a quello che accade tre anni fa con la vicenda AGI. Vedremo.